Non sono apparsi intimoriti del sequestro di due delle loro case a luci rosse, avrebbero continuato quindi imperterriti un'attività illecita, fornendo alle ragazze precise indicazioni sui comportamenti per sottrarsi ai controlli di polizia, eliminando anche gli annunci online. Cinque uomini e una donna sono accusati a Taranto a vario titolo di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione dei cittadini straniere di nazionalità colombiane dell'est Europa, nonché di un brasiliano. Le indagini hanno preso le mosse a giugno 2020 quando una donna di nazionalità colombiana era stata scoperta in compagnia di un cliente. La locazione dell'appartamento, posto sotto sequestro, era riconducibile ad una sua connazionale che le aveva ceduto il locale per esercitarvi la prostituzione, secondo quanto scoperto dalla polizia, dietro il pagamento di un affitto e anche nel pubblicare gli annunci online. Si faceva chiamare Melody, da qui il nome dell'operazione odierna. Uno degli indagati pare avesse messo anche a disposizione tre appartamenti per ospitare le donne, chiedendo loro 350 euro settimanali. Si occupava anche della manutenzione e della gestione degli appartamenti, fino anche ad acquistare il materiale necessario. Nelle maglie dei poliziotti anche una donna tarantina che gestiva un centro massaggi nel capoluogo e a quanto pare sfruttava l'attività delle giovani prostitute con guadagni dai 80 ai 120 euro a seconda della durata della prestazione. Grazie a tutti.